Queste sono le Dancing Angels Maggiorette qui al concerto dell'Agosto Stronconese. Ve le presento, così a meno faccio anche le presentazioni del gruppo. Da chi parto? Da sinistra o da destra? Parto da destra. Sofia Chicchiero, Azzurra Massaruccia, da dietro se ne è tutte uguali, ci provo eh. Angelina Domingas, Silvia, guardate io sono tutte uguali eh. Valeria Tosti, Silvia Palmieri, Amorita Nardi, Eleonora, Eleonora Malacchia e, signore e signori, Valentina Marchetti. Questa sera Valentina un piccolo omaggio per te, che se ce la fai, noi abbiamo preparato qualcosa per te, scusate perdiamo un po' di tempo, tanto è presto no? Quindi, Valentina, tanti auguri di buon compleanno, non si dice che c'hai vent'anni perché sennò sembra brutto. Noi abbiamo preparato un pezzerino per te, se ci puoi raggiungere, dovessi raggiungerci? Tra lo slalom, tra cassa, coristi, no devi venire su perché devi parlare, scusate per forza, sai che le figuracce le facciamo per bene e non le facciamo per niente. Nel frattempo che Valentina per le prossime tre ore arriverà sul palco, vi presento il gruppo partendo dal flauto di Daniela Giorferretti, Eleonora Cricco, Sharon Molinari, Bucarelli, Rene Stentella, Giacomo Giacomino Picciucchi e Noemi Cipiccia. Andiamo dietro, Clarinetto, Stefano Carsili, Manuel Egidi, un palmieri, Stefano Palmieri, Pietro Stentella, Elisa Mailia al sax soprano, l'altro palmieri, Paolo Palmieri, Denise Cipiccia e Claudia Natalucci. Chi c'è dietro ancora? Mister, professor alla tromba, Marrico Piantoni, Mattia Quintilli da Finocchieto, si dice così. Lorenzo Ventura, le percussioni, Augusto Mailia, Tamburo Imperiale, Antonio Forti, Gran Cassa, Francesco Giacomini alla batteria, Sax Baritono, Fulvio Biondo, Basso Dubba, Mauro Calafate, Flicorno Baritono, Mario Marietto di Lorenzo, la nostra piccola mascottina, Luca Mailia, Luca Mailia, e la bellissima mascottina delle maggiorette che ti prego di fare un inchino davanti a tutto il pubblico, la nostra piccola Michelle, davanti a tutti. E le mitiche cantanti della corale del risorgimento, non ricordo tutti i nomi, però ci provo. Olga, Simona, Silvia, Bruna, Fiorella, Pirna, Simona, Patrizia, la moglie d'arte, moglie d'arte, una figuraccia la dovevi fare anche te, no? Anna, Graziella, dove è? Emanuela, Ambretta, no, Ambra, diciamo, Ambra, Dottor Jacopo Colella, Franzinatra, Oguaglione, Ovidio, vabbè, Ovidio, gente che ne sa, Emilio, ah, cioè, scusate, Natalino, è l'ultimo, lo lascio proprio per ultimo, Maurizio, perfetto, bene, le figuracce mie le ho fatte, Valentina è arrivata, Vale, Vale, vieni qua, vieni qua, vieni qua, un piccolo pensiero, tanto siamo giunti quasi alla fine, noi abbiamo, noi abbiamo preparato un piccolo omaggio, è una sciocchezza, ma vieni avanti, se no la gente non vede, poi c'è la telecamera, YouTube, Facebook, quindi, è un piccolo omaggio, un mazzetto di fiori, però io più che altro vorrei che tu leggessi il messaggio, come no al microfono, come fa a sentire la gente, scusate, io lo so, beh, su, dopo che, eh, lo so che c'è la voce brutta, eh, oh, di chi è la colpa? Prima leggilo, perché sennò fai le figuracce, la prima studialo, dai che è tardi, vai! Tanti auguri, Vale, affinché la vita ti serviva sempre e ti dia tutto ciò che una persona speciale come te possa desiderare, te lo meriti. Gli amici dell'Associazione Musicale Le Contrate, Dancing and Jets, grazie caro!